Ragazzi, avete presente quel video a Imperia dove c'era un ragazzo che si è liberato in mare? Ah, evacuato proprio in mare. Qualcosa dire a tua discolpa? Eh, scappavo troppo. Occhio che qua, non è che la molly e il mare portano via tutto, eh. Non c'è un shell. Siamo sul passo del Tonale a girare in bici, siamo venuti a filmare l'episodio di Red Bull Val di Sole Bike Land. Oggi siamo venuti dalla parte di Tonale e andiamo poi a Ponte di Legno. Domani torniamo ancora a Val di Sole. Sapete perché sorrido? Sapete perché sorrido? Gliela facciamo fare la Black Snake, gliela facciamo fare l'alboretto. Oh sì! Piedini, qualcuno ha dei bastoni che vado giù così. Scusa, io devo fare lo scivolo qua, cioè... Vuoi incastrarti anche tu nello scivolo? Vieni incastrati nello scivolo con noi. Arrivo! Fatemi vedere come si fa lo scivolo, dai. Fatemi vedere. Si scende! Si scende, fammi vedere. Oh madonna! Facciamo l'ingorgo. Ingorgo? C'è l'ingorgo, c'è l'ingorgo! Ah, era quello il bello, incastrarsi. Bimbo Cacca? Vada! Ehi, lungo, eh! Oh, ma dove cazzo senti? Non pia là! Aspetta che devo vedere l'alboretto! Vai, Aldi, è tuo! No! Buu! È minuscolo! Era facile ma non l'ho visto. Linea segreta. Oh, cos'è questo? Huge drop! Oh, l'alboretto va nel fiume, lì. Io devo provarlo il sorpasso, ragazzi. Anche se è dura. Però tipo qui! È tipo... No! Mastardo, le chiude tutte il motocrossista, eh! Vabbè, a buttarsi dentro? Si butta! Gomitate! Pedalano tutto! E vado avanti! Una scusa, ragazzo. Andiamo a filmare l'alboretto. Quanto è quotata l'ingheppata? Attenzione, arriva! A cannone! Wow! Incredibile! Evento da segnare sul canale. La ruota non ha preso nessun colpo. A Val di Sole, alboretto ha imparato a fare... Andiamo! Andiamo! Ok, prego, vada pure. Scenario è cambiato completamente, ragazzi. Siamo conze di legno. Attenzione, local mi fa fare subito un taglio. Oh, come vai te? Oh, eh! Ragazzi, c'è da dentro! Oh, ci dai dentro te? Cazzo, grande! Vai Albi, è tua! Bravo! Così, curva dentro, guarda lì! Buttacela dentro, che bello morbido il terreno, Albi! Va bene, dai! Oh, hai guidato quasi bene! Oh, oh! Oh, sei vivo! Questo è esploso! Grazie del contenuto, come al solito! Vecchio! Vecchio, vecchio, no, no, no! Ci stai? Vivo? Sì, sì! Da posto? Potremmo bruciare? Io avrei pianto già! Sto spagliando più! Adesso c'è il contest, eh! Dovete vincere questa barretta, eh! Whippata, eh! Best whip sul secondo panettone! Come se fosse al crankworks, capito? Uguale! Il premio è più o meno uguale, tanto! È questo il panettone delle whippate! Andiamo a vedere i nostri eroi! Arriva! Oh! 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 Attenzione! Sbaglialinea lui! Oh! Mamma mia! Questa cerchiata potente era! Non era una whippata! Scusatemi, ma io voglio vedere la whippata dell'alboretto, ragazzi! Attenzione, perché, ragazzi, è molto caldo! Niente! Com'era la whippata dell'alboretto? Non è che era ok! Era zero! Ricky Vicio, crossfista! Uh! Se la giocano! Oh! Ricky, dieci anni! Vediamolo! Vediamolo! Oh! Attenzione! 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 Perché cerca di corrompere la giuria con una whippata, lasciando giù anche 5 euro! Premiazioni! La scelta è stata dura! Mi sono confrontato con tutti i giudici in gara! Però la migliore whippata se l'è aggiudicata! Il buon Riccardo! Allora, con l'ultima whippata! Dove si trova la barretta? Dov'è? In tasca! No, no, non è in tasca! Dove la trovano? Nel video? Ah, il link in descrizione! Bravo! Oggi giornata veramente top con tutti i ragazzi nel bike park! Ci siamo ingrati un botto! Mi sono dimenticato di dirvi, ragazzi, che ovviamente il video di Red Bull di Val di Sole è già uscito! Quindi trovate il link in descrizione, andate a vederlo! Lo senti? Hai tenuto la scuaggina di Albi? No, a parte quella! L'odore della partita! Ragazzi, stasera abbiamo... c'è una partitona finale dell'Italia! Chi è che vince? Italia! Dai, Italia! Se vince l'Italia, vedi... vediamo le macchine giate sotto sopra! Ho vinto l'Italia! Oggi Black Snake si festeggia, Albi! Si festeggia! Io ieri, ragazzi, chifavo Italia solo perché l'alboretto mi ha promesso che se l'Italia avesse vinto, lui avrebbe fatto la Black Snake completa da cima a fondo! Ma non l'hai detto questa roba qua! Non l'hai detto! E quindi? E quindi la devi fare! Ok, bei bambini! Andiamo! Uè, che sbrappatino! Bello questo salto! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Dentro! Come ce n'è? Scegli una linea larga, ragazzo! E se ne inchioda! Non molla un attimo lui, eh! Uuuuh! Madonna! Sa tutte le linee della life! Guardalo lì! I trasferini dei local! Guarda lì come... Come vola! Uuuuh! Oh, la voglio whipata, eh! Voglio la whipata! Guardalo lì! Nel trappano... Uuuuh! Non molla un attimo lui comunque, eh! Local, dieci anni! Madonna, se spingi comunque, oh! A dieci anni io non sapevo neanche come era fatta la bici! Però bello perché... Uuuh! Cazzo bello! Bello, bello, Cazzo! Grande! Sono in mezzo alla scritta! Uuuuh! Molla tutto! Uuuuh! Bello a saltare! Mia! Ahaha! Pugno, pugno, pugno! Ciao! Che? Lo ritorno, la forcella... Sai che... Non vorrei averlo rotto, sai? E io faccio così... Edi, ritorna, guarda come ritorno a cannone! È una bella molla! Che fortuna che non hai uno spazio di forcelle! Dai, ma ste forcelle di m***a! Dai, ma che palle! Allora, l'obiettivo di adesso? Bisogna andare l'unghia, ragazzi! Su, porcellina! Esatto, salutatela! Io l'ho già salutata, la mia! Oh, è la madonna! Oh, madonna! Ma quanto cazzo si fa l'unghia! È un'autostrada, praticamente! Pista molto difficile, solo per esperti! Ragazzi, per chi non lo sapesse, questa è la pista del mondiale di Downhill! Attenzione che ti do la partenza io, eh! Guardi la cannone! C'era la macchina! Attenzione, entriamo nel pezzo tecnico! Io li prendo! Madonna, se mi rimbalzo la forcella tutte le volte! Senti, sentila! Ma senti che schifo! Cioè, ieri l'ho fatta dieci volte più veloce e non la conoscevo! Sentite la forcella che schifo! Madonna, oh! Oh, ok! Adesso proprio non va più la forcella! È bloccata! È diventata una forcella da dirt! Buono! Senti, mi piaccia! È diventata una forcella da dirt! No! Meglio che non vado giù così! Alboreto, lo sai, hai un compito! Allora, siccome non la faccio due volte, gli ho detto al d'Ort! Dammi la GoPro e facciamo questa! Hai un compito, Albi! Alboreto cam attivata! Ciao! Ciao, ciao! Ecco l'acqua! Da qua che spaccimero e non mi frena! Oh, poteste sentire il sudore attraverso la telecamera! E? Oh, oh, oh! Voglio andare in casa! Ho le gambe strette! Sono soni lì, eh! Bruttini! Maldita non posso andare! Dai, ragazzi, cos'è sta roba! Dai, ma qua si scende in bici! Quella è una checkerline! Quella cosa che forse riusciva a... No, niente! Non parlo che poi me ne fanno fare! Gustoso! E te che devo riguardarlo, ho già perso la memoria! Ma non posso prenderla qua? Questo è troppissimo! Ma non è che abbiamo sbagliato questa arrampicata? Dobbiamo farlo all'incontrario? Puttana, non è in mezzo ai sassi, sviglio quando faccio queste cose, però... Eccola, 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 occhio lì! Oh, vado, lì c'è il toto! Siamo supervissuti! Lo molo tutto, eh? Ehi! Vai, segui! Molo tutto? No! Come no? Oh, rischio mortale! No! Ti hai scordato di dirmi di bagno parlo! Se tu volevi ammacciarmi! Troppe emozioni questo giro! Ho bisogno di una camomilla! La vedete questa bastarda? Quella che non mi ha fatto fare la Black Snake! Vado a dire la verità, non eri pronto! Abbiamo già caricato tutto, siamo pronti per partire! Vuoi salutare? Il mio cugino è il Sintin! Adesso ci aspettano tre ore e mezza a tornare a casa! State attenti! Comunque il nostro tour nei bike park italiani continua! Ricordatevi, guardate l'episodio di Red Bull che è in descrizione! Ci vediamo in un altro bike park! Chissà qual è? Non chissà qual è, chissà quale pezzo della bici romperemo il titolo! Ecco!